Da Gauto, Mitsubishi Motors, in via nazionale torrente, mercogliano, Avellino. Un movente passionale e interessi legati a ben altre sfere. L'aggressione è venuta ieri pomeriggio in via Scandone, assume per ora le tinte di un giallo. Fermati dagli agenti delle volanti, due ventenni avellinesi, uno in possesso di un manganello telescopico, atto con un occhio tomefat, hanno dichiarato di essere stati aggrediti da due coetanei. Due giovani che dopo essere scesi da un'auto, un'autoritaria nera, avrebbero dato vita al pestaggio. Portati in questura, i due ventenni non sono stati però in grado di fornire elementi utili alle indagini. A sconda volanti, diretta dal vicequestore Giannuzzi, intende però fare luce sull'episodio. Nelle prossime ore, gli agenti potrebbero ascoltare altri ragazzi, probabilmente testimoni dell'accaduto. Potrebbe presto anche essere identificata l'auto nera, da cui sarebbero scesi gli aggressori. Saranno anche acquisite le immagini, riprese dalle telecamere di videosorveglianza, installate presso alcuni locali e negozi della zona. Il possesso di un manganello da parte di uno dei due ragazzi fermati accredita l'ipotesi del regolamento di Conti. Non è il primo caso di violenza tra i giovani in città, un episodio che però non sembrerebbe avere i connotati delle sfide tra bulli che viaggiano pericolosamente sul web anche ad Avellino, e cioè in match a mani nude scatenati dopo provocazioni e appuntamenti dati sui social. L'aggressione di ieri, secondo i primi accertamenti, potrebbe appartenere a ben altri giri. È per questo che la polizia non molla le indagini, intravedendo all'origine del regolamento di Conti, moventi dallo spessore di più alto profilo delinquenziale.